Buongiorno a tutti, il bello di acquistare un immobile negli Stati Uniti è che il cliente può controllare tutti i passaggi dell'acquisto. Prendendo in considerazione l'acquisto di un immobile effettuato tramite una LLC, una società responsabilità limitata formato nello Stato della Florida, possiamo consultare il sito del Dipartimento di Stato www.summit.org, selezionare Search our records, Inquire by name e nell'apposito spazio digitare il nome della società prescelto. Prendiamo ad esempio il nome John Mario LLC. Come possiamo vedere dall'elenco che vi apparirà, il nome risulta essere libero. Possiamo quindi procedere alla formazione della società. Basterà che ci invi il nome prescelto, una scansione a colori di due documenti di ogni socio e i nostri professionisti americani procederanno alla formazione della società. In secondo luogo, questi siti possono essere utilizzati per controllare l'effettiva formazione di una società. Tornando alla schermata precedente, seguendo la medesima procedura che abbiamo visto prima, possiamo verificare che la società sia online. Selezioniamo Search our records, Inquire by name, digitare il nome della società nell'apposito spazio, premere Search now e nell'elenco dovrebbe apparire il nome della società. Cliccando sul nome della società stesso si apparirà una pagina in cui troverò tutte le informazioni. Il numero di registrazione della società, la data di formazione, lo stato in cui è stata formata, lo status attuale della società, l'indirizzo principale, il mailing address che sarebbe l'indirizzo che viene utilizzato per tutte le comunicazioni alla società, il nome e l'indirizzo del registered agent e infine i dettagli e le mansioni delle persone autorizzate. Di anno in anno, a pie di pagina, si potrà visionare e si potranno scaricare i report annuali della società. Ecco qua una dimostrazione di come sia semplice verificare una società online. Vi ringrazio per la visione di questo video, vi consiglio di consultare tutti gli altri. Vi ringrazio e a presto!